Ok Sto lizio è oro Vabbè, insomma Bene, stiamo per startare Con God of Facim E Flegias Allora Un giocatore master Versus un giocatore oro Che però ha lasciato aria la lega Quindi probabilmente O è di una lega superiore Oppure di una inferiore Ed è stato fortunato Comunque io sono qui questa sera con Janus Che sarebbe il mio capoclan Buonasera ragazzi Sì, niente Questa sera appunto ci sarà lui Al posto di Gradosenum Che per vari motivi Non è potuto esserci Dunque Innanzitutto andiamo ad analizzare la mappa Vedetta abbandonata Diciamo una mappa senza Xelnaga Quindi piuttosto Buona per i PvP Anche perché la terza Veramente buona Da prendere Comunque Nell'angolo in basso a sinistra Troviamo Il giocatore del clan punk Protoss God of Facim Che ieri ha perso appunto La finale della Persona Gamer E mentre Nell'altro angolo Troviamo appunto Un giocatore dei Matrix Evolution Che Prende il nome appunto di Flegias Anche lui Protoss Però Gold Eh? Matrix e basta Ah non so più Evolution Ok Evolution sono un altro team Ah ok Ho fatto confusione Perfetto Niente appunto Niente appunto Entrambi fanno Lo scout a 10 Con la probe A seguito Della creazione Del pilone Diciamo Penso Vadano per un Mirror Match Però non so Non conosco bene Il match up Ci doveva essere Creator qui A consigliarmi Comunque Di solito Di solito Vedo sempre Ho un Forgate Cose strane Comunque DT Rush Massa Void Ora il macro game Fa di Massa Void Appunto Comunque Gate Più assimilatore Da parte del Giocatore Protoss Flegias Che Diciamo Già fa Una cosa diversa Dal suo avversario Cioè Prende un gas Molto prima Rispetto a Codosfacim E niente Probabilmente Andrà per un push Molto veloce Staremo a vedere Doppio gas Doppio gas Per Codosfacim Sì Doppio gas DT DT Odoracoli Non so Bisognerà vedere Comunque Cioè Mi ha detto Mi ha detto Fabio di far vedere A tratti le APM No Ok Vedete che sono molto alta Addirittura Rasenta allo zero Comunque Centro cibernetico In produzione Da Un pezzo E molto avanti Rispetto al proprio avversario Flegias In questo momento Ha qualche probo in meno Però Probabilmente Vorrà andare Per un 4gate A mio avviso Perché ha preso Solo gas Quindi E' una parte Di T E' un'altra parte Forgate Sì Se lagga Esco Ma comunque Non dovrebbe Dovrebbe laggare Comunque Continua a cronoboostare Il centro cibernetico Anche con un po' di fatica Butta giù Due portali Più quello Che già aveva creato A 12 Intanto Va a piazzare Proximal E' un godos facium Quindi probabilmente Quindi si va Si va a 4gate Per Per Flegias Sì Sì E' DT Per il proprio avversario Che però Ancora non ha fatto Il concilio del crebuscolo Quindi Vediamo un po' Oppure Vorrà andare Ad oracoli Vorrebbe essere Una scelta Interessante Comunque C'è da dire Che Flegias E' rimasto Su playblock Attenzione Quindi Ah beh Per qualche secondo Sì 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 Per qualche secondo Comunque Fra poco Si apriranno I gate E appunto Flegias Proverà Un nearly push Che non so Che danni Potrà fare E in arrivo Anche il Mothership core Insomma Più due Zelo Più due stalker Quindi Sostanzialmente Si difenderà Abbastanza Agevolmente Intanto la sonda Va addirittura A piazzare Un po' X-Pailon in base Tre stalker In avanti Che vanno Per godless Sì 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 Che cosa Che cosa Non capisco Lei già sa cosa sta facendo Sì No Non ho capito E' push qua Ecco Ah sì 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 L'avevo L'avevo visto Best raid Eh però Ha poca roba Attenzione Può fare massimo Un'altra warpata Proprio poca roba Non ci No intendo Intento A livello Di minerali Eh No comunque Penso che il Best raid Lo vinca Io non lo vedo Abbastanza bene A Flegias Eh infatti Sì Anche io Concordo Una micro Ben studiata Cioè Ammazza Un po' Un po' Sulle strutture Un po' Sulle unit Boh Non capisco bene Cosa Sì Intanto L'ingaggio E' totalmente Perso Ed è costretto A ritirata Inoltre Ha perso I piloni Ha perso Tutto Lì E se ne va Con le probe Non sono andate Se ne va Con le probe E va a costruire Addirittura Un altro Nexus Ha un proxy Qui Incredibile Mossa Da parte Di Flegias Che non Non ci sta Dice il mio Il mio Forgate Doveva vincere Invece Per colpa Di quei tre Zilot Eh di quei tre Stalker Diciamo che E' stato E' stato Annichilito Pertanto A questo punto Codosfacim Deve semplicemente Aumentare La sua macro Costruire E warpare Altri Altri Stalker E a quel punto La partita È facilmente Sì 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 Mossa Vabbè Beh a questo punto Comunque Poteva continuare Qui A Ricostruire Un'altra volta Ma Attenzione Torniamo qui Su Sempre qui Eh Sembra che invece La cosa si stia Un po' No 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 Ma comunque A tantissimi Zilot Gotosfacim Ma a questo punto Non credo Avrà problemi Andarsi A portare a casa Questo game Eh L'aveva tirato Abbastanza giù però Ah dici il Nexus Sì sì è vero Eh sì Se l'ho buttato giù Era No no Comunque persa Ma basterebbe Un paio di filoni Qui o giù Nella Nella main No infatti Infatti Stata Bruttissima La micro Da parte di Fledgias Veramente Che a questo punto Si è andata a ricostruire Un Nexus Qui proxy Veramente Però Non so cosa possa fare Addirittura Proverà a switchare Additti Con il concilio Del crepusco Non so cosa voglia fare Veramente Per fortuna Per lui Che almeno La vista che c'è la robo Che può fare Infatti Fa lo service Eh Difatti E magari Mettersse anche Il punto Di raccolta Su minerali Insomma Si Si No ma Comunque La micro E' stata pessima Da parte di Fledgias Che ha perso Appunto Per Per Un errore Ha perso Gli zealot Nell'ingaggio Vicino al Nexus Quindi insomma Ha sbagliato E ora Questo Ma doveva Comunque Riattivare qui Tutto in prima Ha lasciato Tutto così Boh Si 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 E riesce bene Perché Comunque questo Zealot Scouterà Molto probabilmente Eh vabbè DT Abbastanza inutile Eh si eh Si Arrivò A questo Zealot Qui E sicuramente Scouterà Questa Questa Base A quel punto La partita E' facilmente Persa Perché Non ha Vie di scampo Addirittura Fledgias Che si è andato A scegliere Proprio una base Pessima Devo dire Perché Può scappare Dietro Quindi Niente Warp a due Zealot Per non perdere Lo stalker Ma a questo punto Io Ritirerei Le unit Dalla Dalla base Principale Di Ecco Appunto Di Fledgias E mi concentrerei Ad attaccare Quest'altra Tanto la partita E' pressoché Vinta Ehm Arriva anche L'observer Sa che Due observer Addirittura Sa che Molto probabilmente Eh Il suo avversario Non avrà nulla E quindi Lo pusherà A breve Niente Trigate Robo Sostanzialmente Pensavamo A qualcosa Di un po' più Aggressivo Come Non so Un Un proxy Stargate O un Insomma DT Da parte di Coros Facim Che invece Ha switchato Per un Trigate Robo Che Si è rivelato Poi alla fine Vincente Fuori DT Attenzione Non c'è L'observer Però vabbè Comunque Le unit Sono veramente Tante Dov'è L'observer Da parte Di Coros Facim E' Fermo Qui Ah Eccolo qui Arriva adesso Probabilmente Permetterà Sì A tutte quante Le unit Di Coros Facim Di distruggere Tutto E porta a casa La vittoria Grandissimo Coros Facim Che vince Questo Questo PvP La vittoria Qui Quap', Ver companion